Viene presentato in questi giorni il sesto rapporto provinciale sulle povertà. La Caritas è un osservatorio in questo senso privilegiato, vorrebbe diciamo la verità forse non essere così privilegiato, però sia a livello locale sia a livello nazionale, ormai la Caritas è il vero osservatorio sulle povertà. Cosa viene fuori dal Valdarno? Qual è la situazione specifica su questo fronte in Valdarno, nel Valdarno-Aretino ovviamente? Sì, i dati più emblematici dal mio punto di vista sono stati questi, che i primi anni 2000 in Valdarno il tasso di disoccupazione era pari a zero, oggi è un tasso che si aggira intorno all'8%. Tanti cittadini registrati all'interno di questa ricerca non rientrano nei servizi comunali, per quale motivo? Perché ancora hanno un'ISE medio-alto, perché basta avere una casa di proprietà, basta avere un reddito invece che due in famiglia, che subito la soglia viene superata, e quindi pur vivendo dei disagi economici, la cassa integrazione, il mutuo da pagare, tutta una serie di altri fattori, non riescono ad essere supportati dalla macchina comunale, dal servizio pubblico. Ecco, queste sono le persone che soffrono di più in questo momento. È emerso in maniera molto lampante come negli ultimi anni anche il saldo delle attività lavorative, quindi industriali o imprenditoriali, sia sempre in negativo, sono più le chiusure, le cessioni di attività, che non le aperture o l'avvio di attività. E questi sono dati preoccupanti, perché comunque sia aumenta la disoccupazione, aumenta la mobilità, si allunga la fascia di età di coloro che entrano nel mercato del lavoro e in più, drammaticamente, la fascia dei cosiddetti cinquantenni difficilmente vengono reinseriti all'interno del mercato del lavoro.